Oggi il DURC è più facile e veloce. O piani semplicemente online il nuovo documento unico di regolarità contributiva, valido 120 giorni e utilizzabile per tutte le ipotesi previste dalla legge. Stampalo con un solo clic dai siti di IMSS, INAIL e Cassa Edili. Una bella novità che fa rispargnare tempo e denaro ad imprese e pubbliche amministrazioni. Lavoro.gov.it Nuovo DURC. Basta un clic.